dog napping hanno rapito dei cagnolini oh che carini questa papà spacca un sigaretto è un epico questo dentro è verde perchè c'è sta un sacco di droga e non ci capisco un cazzo oddio che taglio riga madonna mia riga c'è sta spacca proprio che cazzo che chiama questo riga pronto eh vadafone signora vadafone che cazzo volete ancora attaccio ma signora volevamo offrire la nuova tariffa 10 euro tutti i minuti che vuole non me ne faccio un cazzo io non pago niente perchè rubo che c'è sta questo ma l'ho detto che cazzo volete ancora v'ho detto che non mi interessa ma noi ci viviamo questo lavoro cosa signora lo sai che c'è vaffaculo puttana cesso ma sai che c'è invece porco dio buona sterba comunque devo comprare un altro chilo aspetta fammi chiamo a franco oh il telefono oh oh il telefono aspetta chi è chi è chi è chi è pronto il cazzo è chi ah sentite si oh franco mi devi dare la droga porco dio capito ma che cazzo è eh si 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 certo però chi cazzo è no scelto eh sta puttana non paga no ma la droga non te la possiamo dare no ma sei molto tranquilla ma non posso dartela ho detto sai che c'è da me i soldi esci zitto lo tesoro non ti preoccupare eh risolverò tutto io gli do il culo e lui ti sarà la droga non mi ha spaccuto io invece caro ma la droga ci dai soldi prima o poi c'è un debito di un milione di euro capito porco dio ma è poco dai te ne fai 20 milioni al giorno oh sai che c'è oh sai che c'è t'ho stradito zoccola mi sono scopato un negro muore pure io non lo sono trovato insieme a te non ti ricordi ormai le droga ti vedo questi effetti